L'iniziativa che è un altro elemento di umanità e anche per noi il rapporto... 2010, inizio 2011, questo Capodanno sarà speciale, 5 piazze della Regione Marche saranno insieme, vicine come i suoi cittadini. In un momento così difficile come quello attuale di crisi, l'iniziativa di Senigallia, che da 10 anni viene portata avanti, di questo tendone della solidarietà nella piazza, anche a Pesaro è stata copiata perché è una bellissima iniziativa ed è lì l'idea di stare tutti vicini, quindi per la prima volta in Italia queste 5 piazze. Grazie anche agli sponsor come Coppa Adriatica, Centro Commerciale Maestrale, Senigallia, ma anche a Pesaro, ecco che allora tutti i cittadini potranno cenare insieme per stare insieme e quindi buon Capodanno a tutti e buon inizio 2011. Anche quest'anno l'undicesimo appuntamento con la Cedena di Solidarietà del Capodanno, organizzato dall'amministrazione comunale insieme alla Caritas, il senso e il significato è quello della inclusione, oltre che quello della solidarietà. Non ci sono Capodanni separati tra coloro appunto che partecipano a feste, sfarzose, scintillanti e magari gli ultimi. Abbiamo voluto fin dall'inizio come intuizione quella di fare, come dire, un Capodanno insieme, senza separazioni, senza separatezze e questa cosa ha negli anni funzionato, tant'è che siamo arrivati all'undicesima adesione con un numero di partecipanti sempre maggiore e quindi è un bel modo di finire un anno e di iniziarne uno nuovo.